vai si ok ma va pure la telefonata però allora no qua stretto ancora di più sul video questo lo vedi più stretto meno male levate le poverie allora io penso che l'audio va bene questo siamo a window allora a lei secondo me mi ha fatto una domanda direttamente tecnica nel senso di dire gara 1 gara 2 invece inizio con la prima dicendo il Nettuna ha vinto tutte e due le partite la prima 6 a 3 e la seconda 2 a 1 stai libera stai in registrazione adesso facciamo una prova senti la procedura se ne esce bene quando parla ti basta facciamo una prova leggi la i risultati io lo messi così ci stanno bene no la giro stai in poi lo starete leggi la allora la 17 l'ultima giornata dell'IBL Padova Nettuno la prima gara la vinta la prima gara la prima gara la prima gara la seconda gara Rimi ha vinto 10 a 0 Rimi ha vinto 10 a 0 andiamo con la classifica diciamo che Bologna ha vinto le partite vinte c'ha 25 e le partite perse c'ha 9 San Marino ha vinto 4 vinte 10 perse il Mettuno ha 22 vinte 12 perse Rimi ha 20 vinte 14 perse Padova 16 vinte 18 perse Giovara 15 vinte 19 perse Padova 10 vinte 24 perse e Padova 4 vinte e 30 perse parlate pure all'angolo di qua metti un attimo qua così vediamo se Soprattutto come hai iniziato? Per gioco? Hai iniziato? Sì sì un po' così Questa qua con un'evasione Ok penso che può abbassare Grazie 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 Grazie